ecco la pelle diventa più vulnerabile. Ripartiamo allora. Ma no dai adesso ripartiamo. Di due cose iniziali. Carlo che mi riprende sempre va bene le scottature solari si verificano quando si scusate dico due cose proprio veloci per sintetizzare si verificano quando la nostra pelle è sposta a una dose eccessiva di raggi UV che non riesce a gestire e questo succede quando appunto ci è risponiamo troppo velocemente dopo un periodo in cui siamo stati per lo più in ambienti chiusi e quindi la nostra pelle non è preparata non ha la base per il sole. Quali sono i sintomi che si manifestano? Arrossamento della pelle, bolle vescicole pruriginose, estrema sensibilità della pelle al tatto, secchezza cutanea. Chiaramente noi adesso vi daremo una serie di rimedi naturali completamente naturali per intervenire per non rovinarvi la vacanza quindi per risolvere la scottatura in maniera abbastanza veloce e indolore. Eh però quando c'è una scottatura la pelle in un certo senso rimane traumatizzata eh e diventa più sensibile a livello di a livello cutaneo ehm diventando più sensibile le volte successive quindi si scotta prima può ehm aumentare il rischio di macchie cutanee e il fotoinvecchiamento cioè la comparsa di rughe, la perdita di tono ed elasticità proprio perché la pelle più ci si scotta più frequentemente e più rimane traumatizzata anche se il fastidio momentaneo poi scompare. Eh chiaramente non tutti ci scottiamo allo stesso modo dipende molto dal come sapete dal fototipo quindi chi è scuro di carnagione e scuro di capelli e di occhi eh tenderà ad arrivare al punto di ehm scottatura molto più avanti rispetto a chi ha pelle chiara quasi diafana magari lentiggini, capelli biondi, occhi chiari che è molto più soggetto alle scottature quindi già dall'inizio dovrà eh proteggersi o se non vuole proteggersi con troppe creme solari che abbiamo visto che sono tutte di origine chimica nella maggior parte dei casi e non sono così benefiche dovrà veramente esporsi al sole stare all'ombra se è chiaro di pelle portare dei cappelli e degli occhiali ehm esporsi proprio poco eh poco magari la prima volta anche un quarto d'ora al giorno e stare per lo più sotto l'ombrellone perché altrimenti un fototipo chiaro che può essere che ha capelli biondi o rossi e occhi chiari veramente si eh ustiona con estrema facilità ehm vediamo un attimo quelli che possono essere gli impacchi rigeneranti per le scottature l'impacco di aloe vera sapete che l'aloe lo diciamo sempre il gel di aloe è quello più usato quando ci si scotta ehm una volta che è assorbito si è asciugato ed è stato assorbito bisogna applicarlo nuovamente sapete anche che il gel d'aloe ha quell'effetto fresco e quindi anche molto piacevole da sollievo quando la pelle è accaldata si può usare il gel d'aloe possibilmente più puro possibile al novanta novantacinque per cento o altrimenti se avete una pianta di aloe o vi siete portati eh qualche foglia di una pianta che sia anche eh che abbia almeno tre quattro anni come tra virgolette anzianità perché il gel è più attivo è più maturo potete direttamente aprire la foglia romperla col coltello togliere il gel e applicarlo direttamente sulla pelle è un tocca sana veramente ehm poi c'è un altro rimedio molto utile che è l'impacco all'olio di cocco sapete che l'olio di cocco ne abbiamo parlato anche le nelle scorse puntate è un olio che ha veramente tantissime applicazioni sia a livello topico ma anche per da ingerire a tantissime proprietà positive e naturalmente anche nel caso di scottature l'olio di cocco vergine strato a freddo può essere utilizzato eh con un cucchiaino si versa l'olio direttamente sulla pelle e poi si spalma con le mani anche qui da un effetto eh per un effetto rinfrescante conviene metterlo prima in frigorifero non superare però i cinque minuti perché sapete che altrimenti l'olio di cocco solidifica e poi spalmarlo diventa veramente difficile eh oppure c'è anche eh si possono applicare sulla pelle anche fare degli impatti col tè nero si applicano le bustine di tè precedentemente messe in ammollo in acqua tiepida per alcuni minuti si applicano si tirano fuori dall'acqua si fanno raffreddare per qualche minuto e si applicano sulla pelle senza strizzarli quindi intrise dell'acqua ehm i tannini che sono presenti all'interno del tè aiutano a trattare la la scottatura e a dare notevole sollievo un altro metodo naturale l'impacco di yogurt ehm i probiotici che sono presenti nello yogurt aiutano a idratare la pelle e ridurre il dolore scegliete preferibilmente uno yogurt bianco intero non alla frutta chiaramente l'applicate direttamente sulla pelle lo lasciate agire per dieci minuti e poi eh risciacquate dopo aver fatto questo trattamento potete applicare quando la pelle è asciutta applicare eh dell'olio di cocco eh come abbiamo detto prima quindi in questo caso lo applicate in un secondo momento diciamo che è un aiuto in più per eh lenire la scottatura un altro modo è l'impacco al cetriolo sapete che i cetrioli che normalmente sono conosciuti perché eh si vedono ogni tanto sugli occhi no? Si mettono sul sul sull'occhio per eh l'occhio affaticato magari con un po' di congiuntivite per lenire proprio perché ha questo effetto molto rinfrescante e in effetti ha delle proprietà lenitive che sono straordinarie eh naturalmente in questo caso bisognerebbe frullare la polpa filtrarla attraverso un colino molto fitto eh raccogliere il liquido in un bicchiere e applicarlo sulla pelle con l'aiuto dei di batufoli di cotone si tratta di un di un impacco che può essere utilizzato sia per il viso che per il corpo perché effettivamente usare il cetriolo così eh diventa difficile per tutto il corpo a meno che abbiate una scottatura proprio limitata a una piccola parte di pelle quindi sugli occhi potete mettere la fetta di cetriolo ma se voi dovete spalmarvela sul corpo eh bisogna per forza frullarlo. Un altro utile rimedio è l'impacco alla patata eh la patata è ottima per eh curare le scottature in generale contiene la solanina che è quella sostanza che normalmente si dice che è da ingerire velenosa in questo caso è molto utile perché evita che si formino le fastidiose bolle d'acqua qui quando la scottatura è veramente un pochino pesante eh perché le bolle d'acqua sapete che non so chi ha provato sono dolorosissime eh l'impacco di patata dà eh proprio sollievo al bruciore in questo caso basta applicare proprio delle fette di patate sui punti critici e lasciarle per una ventina di minuti eh nel caso si tratti di viso chiaramente potete sia applicare anche la fetta così però è meglio grattugiarla e spalmare il succo sulla parte dolente. eh il cetriolo con la buccia sì potete tritare anche la buccia perché anche la buccia è a proprietà lenitive notevoli eh se volete fare prima potete tritare frullare diciamo tutto il cetriolo intero mh c'era una domanda. Poi c'è l'impacco al latte eh il latte può anche contribuire a ridurre il dolore e il calore eh che si sta eh sperimentando a seguito delle scottature. È possibile fare un impacco a freddo bagnando un asciugamano o un qualcosa un panno direttamente con il latte fresco e poi applicarlo sulle zone scottate. Poi ci sono dei bagni che possono essere fatti se avete chiaramente a disposizione una vasca per ehm alleviare la pelle il fastidio della la pelle scottata. Ehm si mette acqua tiepida mi raccomando non calda perché già la pelle è scottata. se vi mettete anche l'acqua che scotta andate ad aggravare ulteriormente la situazione nonché il dolore a parte che ve ne accorgete. Quindi eh si può usare mh una tazza di aceto di mele quindi messa appunto nell'acqua tiepida della vasca da bagno mezza tazza di bicarbonato quindi o una tazza di aceto di mele o mezza tazza di bicarbonato di sodio e una manciata di sale grosso oppure una tazza di farina di avena o amido di riso perché hanno proprietà molto emollienti queste ultime due cose. potete versare la farina direttamente nell'acqua o riporla in un sacchetto d'organza lasciare nella vasca mentre sarete immersi. Io vi consiglierei di versarla direttamente nell'acqua. Eh la farina d'avena è molto utile per alleviare la pelle secca e ridurre l'infiammazione prodotte dalle ustioni solari. Eh potete produrvela direttamente se non l'avete in casa ehm frullando i fiocchi d'avena. Sapete che se frullate i fiocchi d'avena diventa proprio farina. Poi eh ecco questi sono alcuni rimedi che eh sono abbastanza di facile reperibilità perché anche se vi trovate in un luogo di vacanza insomma trovare lo yogurt trovare i cetrioli trovare la patata eccetera eh è abbastanza semplice il gel d'aloe se non avete la pianta a disposizione. Ehm ci sono alcuni alcune integrazioni di vitamine eh che possono essere fatte per evitare le scottature solari. noi stessi abbiamo fatto una depurazione prima a giugno che abbiamo chiamato depurazione del sole dove attraverso eh l'utilizzo di alimenti molto antiossidanti e soprattutto di colore arancione e giallo eh siamo andati a preparare la base per l'esposizione al sole quindi per le vacanze. eh chiaramente sono cibi che sono ricchi soprattutto di eh carotenoidi quindi vitamina A vitamina E vitamina C se voi vi prendete o vi assumete degli alimenti ricchi di queste vitamine eh oppure vi prendete un'integrazione. oltre a questi ci sono anche gli omega 3 che sono molto importanti quando ci si espone al sole. Poi ehm naturalmente come cibi consigliati e poi do la parola a Carlo perché mi sono già dilungata troppo eh. sono rimasti due minuti. Eh sì. Ho finito. Eh i cibi più adatti quando per per evitare le scottature solari sono cetriolo, l'anguria, il melone, i mirtilli, i lamponi, le more, le ciliegie, le fragole. Naturalmente da evitare possibilmente quale saranno l'alcol, le fritture, zuccheri e dolci e i ehm il fumo. Ovviamente i primi alimenti sono molto antiossidanti quindi aiutano tutto il corpo, non solo la pelle, i secondi invece vanno ad infiammare eh ovviamente. Poi è importante come abbiamo detto e concludo esporsi al sole e quindi assumere sufficiente vitamina D proprio dal dal sole che è il re per eccellenza che ci fa assorbire una vitamina D di ottima qualità che è quella più adatta rispetto agli integratori che ovviamente sono sempre un po' un ripiego però bisogna eh farlo con cautela e soprattutto nei primi giorni utilizzando un'esposizione graduale e non mettersi sotto il sole di mezzogiorno dalle undici alle tre che è il sole dove ci si rischia poi di scottare di più. Lascio la parola Carlo. Bene. Sì Melissa ha già fatto una trattazione abbastanza abbastanza completa delle cose. Eh sicuramente bisogna avere attenzione eh bene i rimedi infatti dirò anch'io tre o quattro diciamo in caso di eh scottature ritemi tutto il resto però la questione va affrontata alla base eh quindi in partenza perché se utilizziamo una serie di cibi antiossidanti molta roba molti cibi crudi noi creiamo il terreno favorevole per assumere il raggi del sole senza avere particolari problematiche poi chiaramente è sempre una questione di gradualità ed è fondamentale il fototipo eh di cui si fa parte sono sei fototipi diversi c'è il primo che è il più fragile diciamo e che difficili sono quelli che non si abbronzano mai. Quindi è bene che prendere anche in quel caso un po' di sole ma deve essere eh il primo sole della giornata o l'ultimo sole della giornata quindi perché il sole sappiamo che fa bene eh perché abbiamo rimarcato sempre più volte l'importanza della vitamina D antidepressiva riduce tutta una serie di patologie di problematiche quindi il sole è importante. Però chiaramente se si fa parte di un fototipo delicato è bene è bene avere molta attenzione perché poi andare a prendere il sole con la protezione del 50 meglio stare sotto l'ombrellone perché tanto non fa il sole non è come avere una schermatura quindi non non i vantaggi e difficilmente si hanno. La questione è appunto parlavo dei cibi cibi antiossidanti e dove c'è tutta una lista dei cibi antiossidanti sono tantissimi sono tutta roba cruda e infatti invito a consultare la tabella ORAC che è quella che misura il livello di antiossidanza dei vari cibi. In testa ci sta sono i mirtilli o il succo di uva nera sono sono i primi diciamo sono quelli che hanno un potere antiossidante altissimo e e quindi inserire nell'alimentazione i cibi antiossidanti inutile dire che nel periodo estivo è importante bere tanta acqua perché aiuta l'idratazione della pelle perché una pelle secca logicamente più facilmente viene aggredita dai raggi del sole. Quindi anche questi sono accorgimenti che poi sono accorgimenti generali e normali per tutto l'anno normalmente ma particolarmente nella stagione estiva bisogna avere quelle attenzioni e poi di altri rimedi diciamo per le scottature abbiamo che so si può realizzare una lozione di Sambuco per esempio abbastanza semplice. Si mette in un litro d'acqua due cucchiai di semi o di bacche di Sambuco si spegne quando inizia a bollire si lascia al riposo per 5 minuti grosso modo si aspetta che raffredda un po' si filtra e poi si bagna una garza sterile e si tampona diciamo sulla scottatura. Altro rimedio ecco un impacco per esempio di fragola si prendono delle fragole si schiacciano per bene fragole ben mature chiaramente si fa una poltiglia e si applica la polpa proprio direttamente sulla scottatura e si lascia agire grossomodo per una mezz'oretta. Logicamente dopo un po' dopo qualche ora si può rifare ancora il trattamento. Questo è un altro rimedio poi è utile per esempio e questo anche abbastanza in termini generali è l'oliolito di carota. L'oliolito di carota è infatti un olio emollente anti-age quindi anche per chi è un pochino più su d'età è molto utile. E' ideale questo qui per tutti i tipi di pelle che ci sono per i vari fototipi. In particolare come dicevo prima per le pelli di persone già un po' mature che tendono a essere un po' secche e leggermente irritate. Se si applica costantemente e regolarmente può contribuire da una mano a mantenere una pelle idratata perché l'obiettivo è quello. Ripeto importante è bere molta acqua durante la giornata e una pelle ben idratata ha già delle possibilità in più per essere in buone, per essere più elastica, più tonica, prevenire anche le screpolature per esempio. Quindi l'oliolito di carota è un elemento interessante che può sempre servire. Poi di altre cose a epoca per esempio in caso di eritema abbastanza forte si può utilizzare chiaramente uno dei rimedi che abbiamo detto ma anche l'omeopatia ha delle risposte interessanti utilizzando la bella donna per esempio quando c'è un forte calore locale con un arrossamento molto 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 caldo diciamo il cantaris per esempio se ne ritema per esempio con le bollicine dove brucia anche in maniera abbastanza forte e evidente. E' un'opis mellifera quando la pelle gonfia ed è calda con sensazione come se ci fossero punture di spilli per esempio e questi qui vanno assunti con una diluizione di 5 CH tre granuli ogni mezz'ora e questo ad abbinare chiaramente a rimedi che abbiamo appena citato. Questo è un po' quanto. Quanto siamo arrivati come tempo? 46. 20 minuti. Va bene. Stop. Quindi questo diciamo è una carrellata molto rapida e veloce rispetto l'approccio agli eritemi solari e alle scottature. E niente possiamo chiudere ricordo comunque che l'associazione Onda Vitale è un'associazione totalmente autofinanziata siamo in campo e in pista da dieci anni e se si entra sul nostro canale Telegram Onda Vitale Associazione abbiamo organizzato in dieci anni centinaia di centinaia di iniziative in questi ultimi tre anni e mezzo anche sul web, cosa che non utilizzavamo prima di tutta sta storia e tante iniziative in presenza, tante tante anche molto interessante e molto partecipate come per esempio il convegno sulla vera prevenzione primaria alla Cine Tirato Gabazzeni a Bergamo e tante tantissime altre iniziative che si possono trovare sul nostro sito ricordo comunque che tutte queste dirette, quelle del martedì e queste qui che abbiamo iniziato per l'estate martedì e venerdì si possono trovare tutte concentrate senza andare in giro a cercarle in un canale specifico che è Onda Vitale SD Benessere sono tutte lì all'interno dove chiediamo per un abbonamento come sostegno a questa attività qui per sei mesi sono 18 euro che sarebbe in termini pratici dieci centesimi al giorno mi sembra sì, tre euro al mese, dieci centesimi al giorno e dove chiediamo che la testa dell'associazione vale vari da 165 giorni l'anno che costa contributo di 5 euro questo è quanto, quindi abbonatevi dentro ci sono le oltre 80 dirette che abbiamo tenuto come per il martedì siamo più di 100 adesso in pratica con altri documenti e tanto altro materiale si può trovare dentro per chi vuole conoscere ed essere responsabile della propria salute attraverso chiaramente una serie di conoscenze lì dentro si trova tutto abbiamo trattato tantissimi, tantissimi argomenti quindi vi invito a entrare a questo canale perché è un canale dove si può trovare quando serve si può trovare il video giusto o il documento giusto penso che possiamo ringraziamo tutti per la partecipazione grazie, nonostante sia venerdì sera capiamo che è luglio e quindi volete andare in giro giustamente oggi c'è una giornata tra l'altro splendida veramente da godere all'aperto non so, qua almeno al nord è proprio una bellissima giornata neanche troppo calda vi ringrazio, vi auguriamo un buon weekend e ci vediamo martedì prossimo sempre alle 18.15 con un altro argomento che vi proporremo alla prossima buona serata e buon weekend buon weekend a tutti ciao 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 ciao